Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada. Qualche problema in A1, dove troviamo coda in uscita a Firenze e Scandicci per traffico intenso nelle due direzioni. Verso nord, rallentamenti per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione tra Incida Reggello e Firenze Sud e coda per traffico tra Firenze e Impruneta e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta, coda tra il bivio a 1 a 11 e Firenze Scandicci ancora una volta per traffico. Ci spostiamo sulla Firenze Mare dove restano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e il bivio con la 1 e coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tutto verso Firenze. In Fipili per lavori troviamo due chilometri di coda verso Firenze, tra Impoli Est e Ginestra, in carreggiata opposta, rallentamenti tra Ginestra e Montelupo. Sempre in Fipili per traffico intenso, coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze-Rivorno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!